Buongiorno, come state? Contenti di saltare un'ora di lezione? Vi vedo, lì dietro, vi vedo. No, a noi fa molto piacere essere con voi, ci hanno detto che siete delle classi quarte, giusto? E venite da Frosinone? Bra, quindi vi siete fatti un po' di strada per arrivare fino a qua. Però cercheremo di, almeno per quanto mi riguarda, io cercherò di non essere noiosa, ma di dirvi qualche cosa di interessante. Inizio col presentarmi, io sono la consigliera Anna Ruffino, sono una diplomatica, sono entrata in diplomazia 12 anni fa e ho già fatto il mio giro estero, come si dice, il mio primo giro estero, quindi otto anni di servizio in qualche ambasciata e consolato italiano che sono in giro per il mondo e poi sono rientrata al ministero da poco. E questa è la mia collega, Marianna. Molto piacere ragazzi, buongiorno, ben arrivati a Roma. Io appunto sono Marianna Haddad e sono entrata in carriera diplomatica invece più di recente, con il concorso del 2020 e ora come Anna presso servizio all'ufficio quinto della direzione generale per le risorse e l'innovazione e il nostro ufficio è quello che si occupa di concorsi, selezione del personale, tirocini, esperti e oggi quindi avremo modo di confrontarci sulla nostra carriera, su come si accede e è un piacere essere qui con voi. Ok, mi vedete tutti? Anche voi dietro la colonna, riuscite a vedermi? Ok. Allora, oggi si parla di diplomazia, ma che cosa è un diplomatico? Allora, io vi voglio fare una domanda. Quanti di voi hanno letto libri o visto film in cui compare la figura, il personaggio del diplomatico? Alzate le mani, tanto non ci sono. Una, due, tre... Sì, non siamo mai i protagonisti delle storie di solito, siamo un po' coloro che stanno dietro le quinte a consigliare i protagonisti, però, che genere di libri o film erano? Romanzi, fantascienza, storici? Intanto, ditemi un po'. Storici? Romanzi? Ok. Diciamo che un po' nell'immaginario collettivo cosa fa il diplomatico? Sia nei romanzi che invece proprio come figura storica di cosa si occupa principalmente, se doveste dirmi cosa fa il diplomatico principalmente, cosa mi viene in mente? Diteci che non ci sono risposte sbagliate, tanto noi facciamo tutto, quindi... Secondo voi cosa fa il diplomatico? Consigliere, ho sentito? Poi? Eh, dite, tanto... Siamo tra noi, eh? Era necessaria questa lezione, per cui... No, vedo che... Benissimo! Potrebbero anche solo essere timidi. Allora, diciamo che un po' forse nell'immaginario collettivo il diplomatico è colui o colei che cerca di mediare, no? Tra due parti in conflitto, oppure cerca di evitare, non so, una guerra? Cerca di portare pace? Mi vi suona? Sì? Abbastanza, ok. E se non c'è rischio di guerra? Il diplomatico che fa? Consiglia. Consiglia, ok. Sì, questa è una buona, un'ottima risposta. Beh, in realtà noi lavoriamo molto più in tempo di pace che in tempo di guerra o comunque nei momenti in cui si rischia una guerra. Noi non siamo imprenditori, però ci occupiamo di commercio, non siamo artisti, però ci occupiamo tantissimo di arte e cultura. Non siamo soccorritori, eppure aiutiamo tantissimo gli italiani in difficoltà all'estero. Non siamo benefattori, eppure costruiamo scuole, ospedali nei paesi che ne hanno bisogno. Si dice, infatti, che il diplomatico è un po' un generalista, cioè noi non siamo professionisti di un settore particolare. Copriamo un po' tutto, tutti i casi della vita, tutti i settori professionali, senza essere mai specializzati veramente in nulla. E questo perché la vita è complessa e il nostro lavoro richiede capacità di affrontare la complessità. E, secondo voi, da dove nasce il bisogno di diplomazia, storicamente? Perché abbiamo bisogno di diplomatici? Allora, un po' tutti noi facciamo diplomazia nel nostro quotidiano, no? Se non vogliamo che il nostro vicino di banco ci rubi il portapenne o ci copi il compito mentre stiamo facendo qualcosa, dobbiamo cercare di avere buoni rapporti con gli altri. Quindi, innanzitutto, da sempre c'è stato bisogno di diplomazia, da sempre c'è stato bisogno di avere un rapporto positivo con un altro per tutelare la nostra sicurezza, per trarre vantaggio dagli scambi con altre tribù all'inizio, con altri stati, con altre persone. Quindi, un po' tutti noi, un po' tutti voi siete diplomatici nel vostro quotidiano. Però, l'idea proprio di diplomazia moderna nasce in un determinato tempo, in un determinato luogo. E sapete dove? Potete immaginarlo. Quale stato, secondo voi, ha dato origine alla diplomazia moderna così come la intendiamo noi? Il nord Italia, le città-stato del nord Italia, quindi Milano, Venezia, la Toscana, all'epoca del masso medioevo. Quindi, il concetto di diplomazia moderna nasce nel nord Italia, quindi un'altra cosa di cui essere orgogliosi. E nasce perché si distingue dalla diplomazia che veniva fatta in precedenza. Perché per la prima volta uno stato, una città-stato, invia un ambasciatore, un messaggero, a risiedere stabilmente da un vicino, o da un alleato, o comunque da un'altra entità. E fu la Spagna, il primo stato, nel 1487, a inviare un ambasciatore residente prezzo la Corte d'Inghilterra. Quindi, parliamo di un periodo in cui a breve si sarebbe scoperta l'America, il continente americano. I commerci avrebbero reso il mondo un po' più piccolo, un po' più accessibile. Quello che si dice è stato un po' il primo tentativo di globalizzazione, perché tutte queste realtà che nel medioevo erano abbastanza separate iniziano ad essere unite, soprattutto dai commerci, dai trasporti, dalle comunicazioni. E quindi, in un mondo un po' più globalizzato, è nata l'esigenza di lasciare un proprio rappresentante a casa del vicino, a casa anche del rivale. Perché all'epoca, insomma, sapete che gli stati europei non erano poi così amici come lo sono oggi. E quindi è nata questa esigenza. Pensate che la prassi di accreditare un ambasciatore presso uno stato straniero e chiedere il gradimento, perché la prassi è che io seleziono un diplomatico che voglio inviare come ambasciatore in un altro paese. Ma se quest'altro paese non vuole questa persona, che succede? E quindi si chiede il gradimento, cioè si chiede allo stato straniero di accettare o meno questa persona che io ho designato. Allora, questa prassi qua è ancora in uso oggi. Quindi dal XV secolo ad oggi, questa cosa funzionava sei secoli fa e continua a funzionare ancora oggi. Vuol dire che le esigenze umane, più o meno alcune, rimangono le stesse. E cosa facevano questi ambasciatori prevalentemente? Beh, sicuramente trasmettevano dei messaggi. Questo era già da prima, quando venivano inviati delle delegazioni o legazioni. Questa era un'attività tipica degli ambasciatori. E chiaramente in un'epoca in cui non esisteva internet, non esisteva la stampa, avere una figura accreditata che trasmessesse un messaggio ufficiale del sovrano vicino, o meno vicino, era importante. Quindi comunque il ruolo di messaggero all'epoca era veramente molto molto importante. E cercavano di mediare, perché non sempre questi stati avevano gli stessi interessi, non sempre avevano gli stessi obiettivi, ok? Quindi dovevano negoziare, dovevano mediare, dovevano cercare di capire se c'era spazio per un negoziato, per un accordo. E poi cercavano di sviluppare i commerci, la cosiddetta mentalità mercantile, che ancora oggi ovviamente caratterizza il nostro mondo. Quindi dove c'erano relazioni diplomatiche positive, c'era anche commercio, c'era benessere, e tutti ne traevano vantaggio, ok? Quindi già abbiamo visto che insomma il diplomatico sia ok consiglia, cerca magari di evitare qualche guerra, ma fa tante altre cose. Un'altra cosa importante che facevano era scrivere, scrivere e tenere traccia dei fatti storici, quindi molti avvenimenti storici che noi conosciamo, li conosciamo grazie a documenti diplomatici. E questa è anche una cosa molto importante che hanno lasciato l'umanità. Quindi questa figura del diplomatico, storicamente nasce in questo modo, e si sviluppa. Si sviluppa nei secoli. Il mondo diventa più complesso, le attività del diplomatico diventano più complesse, chiaramente. Le esigenze cambiano, i bisogni cambiano. Però la necessità di parlarsi, di avere un canale di comunicazione con l'altro, è rimasta, è sempre quella, non se n'è mai andata. Quindi oggi che cosa fa un diplomatico? Cosa facciamo io e Marianna, ad esempio, in questo 2022? Vedo che Marianna mi ha preparato delle slide con due colleghi che sono diventati abbastanza famosi, comunque noti alle cronache e anche ai social. Forse riconoscerete Tommaso Claudi, a sinistra, che è il giovane diplomatico che stava a Kabul quando nell'agosto del 2021 i paesi occidentali hanno lasciato la capitale, sono entrati i talebani e tantissima gente che aveva collaborato con l'occidente ha cercato di fuggire. Forse vi ricorderete dal telegiornale, c'erano state esplosioni, c'era tanta gente ammassata in aeroporto, vi ricorderete forse di alcune persone che si sono aggrappate all'aereo pur di scappare, perché sono persone che non condividono nulla della politica dei talebani e quindi hanno cercato di scappare in occidente o comunque in posti migliori. E Tommaso è diventato famoso perché appunto in quei giorni molto concitati gli hanno fatto un sacco di foto, questo è lui che prende un bambino e cerca di portarlo in salvo e questo è una delle, cioè non capita certo tutti i giorni, ma è una delle attività di tipo consolare umanitario di cui un diplomatico può occuparsi ancora oggi. L'altro collega invece, il nostro ambasciatore d'Italia, Kiev in Ucraina, anche lui è diventato abbastanza noto perché è stato invitato a qualche programma in tv che poi è stato anche ripreso dei social, non so quanti di voi guardano ancora la tv, la guardate ancora la tv? Sì? Ma la guardate per informarvi o la guardate per vedervi film? Questo mi interessa sinceramente. Eh? Mi sento. Tutte e due? Ma sono i vostri genitori che la tengono più accesa? Siete voi? No, perché io ad esempio non accendo quasi più la tv, ormai guardo quasi tutto su Twitter o su stampo online, quindi immagino che pure per voi il rapporto con la televisione sia diverso. Comunque l'ambasciatore Zazzo è diventato abbastanza noto perché è stato invitato anche da insomma in programmi televisivi e presentatori anche abbastanza noti. E se dovessi riassumere in una frase quello che facciamo è io direi che il diplomatico, la diplomatica cerca di costruire un ponte. Cerchiamo di costruire ponti, cerchiamo anche di costruire reti, reti di contatti e ponti tra culture. Perché quello che dobbiamo fare, la nostra mission, il nostro obiettivo è comunque sempre quello di mettere in comunicazione il nostro paese che è l'Italia con altri paesi stranieri. Ok? E vi faccio degli esempi. Ho sempre voluto fare questo lavoro da quando ho visitato l'ONU a Ginevra con la scuola. Avevo esattamente la vostra età, avevo 17 anni. Ho fatto liceo linguistico ad Alba in Piemonte e linguistico scientifico a dire la verità era una sperimentazione e ci hanno portato a Ginevra a visitare le Nazioni Unite. Oh, io sono entrata lì e ho detto cavolo, avete presente la luce che viene dall'alto? Dici, io voglio fare questo lavoro, io voglio lavorare qui e mi ha colpito molto vedere se vogliamo anche un po' ingenuamente all'epoca, ma insomma ci sa, tutte queste persone, cioè c'era una signora vestita con un sari indiano, poi c'era un signore africano, poi c'era un altro che, non so, veniva da qualche paese remoto un po' esotico ed erano tutti lì, capite? Erano tutti lì a parlarsi, a cercare di fare qualcosa insieme per il bene di questo mondo e questa cosa mi colpì tanto, moltissimo e mi ricordo proprio che pensai io voglio lavorare qua e quindi poi ho preso qualche informazione su che tipo di studi avrei dovuto fare per entrare in carriera e ho scelto di studiare poi scienze politiche e relazioni internazionali e non sapevo in realtà, poi ho vinto il concorso a questa parte, magari ve la spiegherà meglio Marianna del concorso, come si entra, comunque quando sono entrata non avevo ben presente tutto quello che avevo raccontato adesso di cosa era diplomatico, cosa facesse e pensavo, no, non so, di occuparmi dei grandi problemi del mondo magari o comunque di dare il mio contributo alla pace mondiale, in realtà facciamo tantissime altre cose e solo dopo anni ho capito che anche quelle cose piccole che facciamo contribuiscono alla stabilità, contribuiscono a sviluppare un mondo migliore. Ad esempio quando sono entrata una delle prime cose che mi hanno fatto fare tantissime conferenze, ho spostato tanti di quelle sedie e non avete idea, quindi ho organizzato tutto, c'erano delle delegazioni in visita, c'erano dei gruppi di persone appunto che venivano da altri paesi, ho dovuto praticare molto le lingue, quindi so che qualcuno di voi del linguistico ottima scelta, bravi perché tanto le lingue vi serviranno sempre e comunque. Ho fatto tanto lavoro organizzativo, da liaison office, le dicevamo prima in macchina, non è sempre facile perché comunque ti devi occupare di una delegazione straniera che viene a trovarti in casa tua e quindi devi dare il massimo perché si sentono accolti, perché siano contenti, perché insomma trovino le cose interessanti. Abbiamo lavorato molto come si dice, abbiamo fatto molta gavetta all'inizio. E poi io all'epoca mi occupavo di voto all'estero, quindi gestivo, ero nell'ufficio che organizzava, avete presente il voto degli italiani all'estero? Sapete come si vota all'estero? Per posta, per corrispondenza. Ti mandano la busta con la scheda elettorale a casa e tu la voti e poi la rispedisce al Consolato, all'ambasciata di riferimento. Infatti l'Italia e nell'estero votano qualche giorno prima delle votazioni nazionali. Perché? Perché poi dobbiamo noi, in Consolato e in ambasciata, dobbiamo raccogliere tutte queste belle buste che ci arrivano, le mettiamo nei sacchi, cosiddette le bolgette diplomatiche, i famosi sacchi diplomatici che hanno ancora i sigilli, sapete quella c'era l'AC, non si possono rompere, altrimenti è un problema enorme. Adesso abbiamo anche i leverlock, che sono i sigilli un po' più moderni di plastica. E si accompagna a questo corriere diplomatico con una persona dell'ambasciata del Consolato che fisicamente accompagna, se sei una sede piccola, al sacchettino, se hai tanti italiani, hai i veri pallet proprio di schede votate, che partono, arrivano a Fiumicino, dove vengono accolti da tutta una serie di persone che controllano i sigilli e poi vengono scrutinate insieme alle schede votate sul suolo nazionale. Quindi io mi occupavo di queste cose qua. E poi mi sono occupata per un breve periodo anche dell'assistenza agli italiani all'estero. Ero nell'ufficio, si è detto ufficio rogne, perché ci occupavamo, ahimè, cioè vedevamo tutte le criticità che capitavano ai nostri connazionali una volta che viaggiavano fuori dall'Italia. Quindi, non so, dal turista che si faceva male, aveva bisogno di un rimpatto sanitario, che non poteva essere curato magari in paesi dove l'assistenza sanitaria non è buona, ahimè anche ai decessi, perché è capito pure che qualcuno si fa molto male e la salma deve tornare in Italia. Quindi mi occupavo anche di queste cose. Non sempre facili, perché umanamente, insomma, è di fronte delle famiglie, è di fronte delle persone. Mi occupavo anche dei detenuti italiani all'estero. Quindi, umanamente, insomma, è stato tosto, però è una bella palestra per quello che è successo dopo. E dopo quattro anni in Roma, il mio vice direttore aveva detto, Anna, basta, devi partire, non puoi continuare a stare qua, perché è bello, bellissimo, però, insomma, il tuo lavoro è fuori. E quindi mi convince a fare domande, finalmente, e partì per Madrid, in Spagna, voi dite, bellissimo Madrid. Ok, bello da turista, però, voi vi immaginate che comunque, parti, lasci tutto quello che conosci, vai in un posto nuovo, e non ci vivi da turista, ci vivi. Quindi, tutto quello che ti capita, ti capita in un posto, che non è casa tua, un posto straniero, in un posto dove, grazie al cielo, la lingua poi non era così distante, comunque l'ho dovuta imparare, perché chiaramente, sia per il lavoro, che per la vita di tutti i giorni, era importante conoscere lo spagnolo. E mi sono ritrovata per la prima volta, da sola, ad affrontare comunque una situazione, non sempre facile, la cosa più banale di tutte, ma io pranzo con chi mangio? Perché fino a lì, avevo circa 30 anni, ho sempre mangiato con qualcuno a pranzo, che fossero le mie colleghe all'università, che fosse la mia famiglia, che fossero immenso i colleghi, qua al ministero, e io per la prima volta mi sono detta, ok, adesso, e ho dovuto imparare, veramente, veramente, a vivere da sola, più o meno, l'avevo già fatto all'università, ma non da sola, avevo sempre qualcuno intorno, condividevo comunque la stanza, avevo sempre delle persone, e invece no, lì ero proprio da sola. E quindi, non è stato facile all'inizio, non avevo amici, non conoscevo nessuno, ripeto, ho dovuto imparare a andare a mangiare fuori al ristorante da sola, che all'inizio mi imbarazzava tantissimo questa cosa, non so perché, poi alla fine, dopo tre mesi, è diventato il momento più bello della mia giornata, perché ho imparato a prendermi un libro, a leggermelo, guardarmi le notizie, scrivere delle cose che avevo in mente, alla fine, ho trasformato una cosa che per me era difficile, nella mia cosa preferita, e questo è una delle piccole difficoltà che si possono incontrare andando fuori. A Madrid mi occupavo di consolare, quindi gestivo un po', seguivo i lavori della nostra cancelleria consolare, dove appunto vengono fatti i passaporti, ad esempio l'italiano all'estero, si dà assistenza all'italiano in difficoltà, vengono fatte le carte di identità, facciamo un po' tutto quello che fa un comune in sostanza, però all'estero. E mi occupavo poi anche di un po' di protocollo, davamo le onorificenze alle personalità straniere più importanti, che avevano dei legami con l'Italia, o gli italiani che si erano fatti un nome in Spagna, e quindi volevamo comunque attirare nella nostra orbita, perché ci interessavano, erano contatti interessanti, e l'ambasciata faceva un sacco di cose, però io avevo un ruolo determinato che era quello, ed era, essendo la più giovane, l'ultima è arrivata, chiaramente facevo anche tutte le varie ed eventuali, che non erano prettamente politiche, o commerciali, o culturali. E quindi mi occupavo soprattutto delle relazioni con la scuola italiana, Madrid, con il Comites, che è un comitato degli italiani all'estero, con il CGE, Consiglio Generale Italiano all'estero, e soprattutto avevo molto a che fare con gli italiani che vivevano in Spagna. Di tutto il mio percorso, sono stata lì tre anni e mezzo, l'evento che non scorderò mai, ahimè, forse ne avrete sentito parlare, è stato quando si è rovesciato un pullman, che portava dei ragazzi Erasmus, anche italiani, a Valencia, e purtroppo sono morte sette nostre connazionali, che avevano 20, 21, 22 anni. Giovanissimo, è una tragedia terribile. Però il lavoro dell'ambasciato e del consolato è anche questo, cercare di, cioè quando succede un evento così terribile, dare sostegno alle famiglie, organizzare il rimpatrio delle salme, e soprattutto aiutare il più possibile. E io mi ricordo, è successo di domenica, stavo tornando da Roma, ero venuta a fare un weekend a casa, e appena sono atterrata, mi hanno detto, è successa una tragedia, devi andare subito a Valencia. Ok, quindi io e una mia collega siamo andate, di notte siamo arrivati lì, c'era già sul posto il console generale che era a Barcellona, il nostro collega che era a Barcellona, perché la circoscrizione, cioè il territorio di competenza, era di Barcellona, ma la cosa era diventata talmente grande che non poteva gestirla da sola, chiaramente, quindi siamo andati dall'ambasciata a dare una mano, e veramente io non scorderò mai il suo viso, quando ci siamo incontrati, lui non dormiva da 36 ore, quindi aveva proprio gli occhi rossissimi, la faccia sconvolta, è difficile scordarsi certe cose, e siamo stati quattro giorni con le famiglie di queste povere ragazze che hanno perso la vita, cercando di dare una mano, chiaramente noi ci siamo occupati della parte burocratica, ma tu comunque avevi a che fare con delle persone, delle persone che erano devastate in quel momento, quindi non è stato facile, umanamente è stato veramente una cosa molto, molto difficile, non lo scorderò mai, siamo ancora in contatto con alcune di queste famiglie, perché sono cose che ti segnano, e però anche lì capisci che sei lì a dare una mano, sì lì non puoi togliere il dolore, perché quello solo il tempo può farlo, però abbiamo cercato veramente di farli sentire il più possibile, seguiti, non abbandonati, cioè quando si dice dov'è lo Stato, ecco noi eravamo lo Stato lì, eravamo lo Stato che cercava di dare conforto dei genitori nel momento più brutto della loro vita, non è stato veramente semplice, e quindi ci siamo occupati, loro ad esempio non parlavano spagnolo, quindi noi eravamo il collegamento tra la polizia spagnola e le autorità mortuarie, gli aeroporti, abbiamo organizzato il trasporto delle salme di queste ragazze in Italia, abbiamo contattato i cimiteri, abbiamo fatto veramente delle cose che tu dici ma veramente mi devo occuparti di questo, sì, perché tu devi comunque dare assistenza a un tuo connazionale, e sono passati tanti anni, ripeto ancora ci penso, ed è stata tra l'altro una sfida nella sfida perché oltre alla parte umana poi c'è stata la visita in quel momento del nostro Presidente del Consiglio all'epoca che è venuto in Spagna per incontrare le famiglie, quindi oltre alla parte consolare ci siamo anche dovuti occupare della parte di protocollo e quindi gestire il Presidente del Consiglio che viene e allora organizza le macchine, occupati della staffetta, vai a parlare con la polizia e in più l'ultima sfida perché vedete come tutto poi è interconnesso, era la parte politica perché forse vi ricorderete che la Catalonia a un certo punto ha voluto tenere un referendum per l'indipendenza, era poco prima del referendum ma comunque in quel momento c'erano un po' di tensioni tra la Catalonia e lo Stato Centrale a Madrid. Allora noi come diplomatici siamo accreditati presso lo Stato Centrale ma eravamo su un territorio catalano quindi la maggior parte della polizia dei carabinieri i famosi Mossos e squadra erano catalani ma noi dovevamo interfacciarci con la polizia di Madrid ok spagnola quindi c'è stato anche un momento mi ricordo molto difficile in cui eravamo circondati dai Mossos di squadra catalani che erano lì per aiutarci gentilissimi efficientissimi e tutto e io e la mia collega che ci guardavano e dicevano ma noi dovremmo parlare con la polizia c'era un'unica auto della polizia con due poliziotti che erano lì così come dire ma non è semplicissimo in una situazione come questa e noi dicevamo i nostri referenti saranno loro perché ovviamente noi siamo accreditati presso lo Stato Centrale e questo è stato veramente di tutti quei quattro giorni forse la cosa più delicata che abbiamo dovuto gestire perché non dovevamo offendere nessuno però non potevamo assolutamente offendere le autorità presso le quali eravamo ospiti ok quindi questa cosa succede molto spesso all'estero anche quando mi è capitato quando sono stata in Africa è un paese democratico però dove la democrazia diciamo ancora giovane e quindi mi ricordo che un ministro si era un po' lamentato di qualcuno che non della nostra ambasciata ma comunque un diplomatico che come dire frequentava troppo l'opposizione la società civile così ha fatto cadere lì la frase che ricordatevi che insomma i diplomatici sono accreditati presso lo Stato Centrale quindi c'è sempre un equilibrio da tenere in queste cose non è facile poi soprattutto quando sei sotto pressione devi organizzare mille cose ma devi fare attenzione a tutto e questa è stata un po' diciamo molto in breve la mia esperienza a Madrid e dopo Madrid visto che non mi ero divertita abbastanza ho deciso di andare fuori Europa a fare un'esperienza fuori dall'Unione Europea e ho messo una candidata per fare la console d'Italia a Caracci in Pakistan sono stata la prima console donna italiana in quella città non ero l'unica console donna perché c'era anche la collega americana e c'era anche all'epoca la collega inglese che erano anche loro delle donne eravamo tre però su 25 tutti gli altri consolati generali erano retti da uomini e molti mi dicevano ma sei sicura di voler andare in Pakistan insomma comunque se all'epoca avevo 34 anni sei giovane sei una donna ma magari non ti prendono sul serio e mi ha detto no vado volentieri e ragazzi è stata l'esperienza più bella della mia vita perché innanzitutto i pakistani sono stati estremamente rispettosi cioè che io fossi una donna loro non interessava loro rispettano molto le forme quindi io in quel momento ero la console d'Italia rappresentavo l'Italia e loro quando parlavano con me parlavano con l'Italia con il mio paese quindi che fossi donna proprio anzi per molti è stata pure una sorpresa piacevole perché dicevano beh dopo tanti colleghi un po' un po' anzianotti insomma con i capelli bianchi ci fa piacere avere a che fare con una generazione un po' più giovane molti mi sono venuti a propormi delle idee innovative dei progetti di collaborazione veramente interessanti che ho ascoltato ci sono tantissimi giovani in Pakistan sapete l'età media è molto bassa quindi io vedo a che fare sempre con i giovani ed è stato bellissimo abbiamo fatto un sacco di cose un sacco di eventi facevo moltissimo in quella veste la promozione del quello che si chiama il sistema paese Italia cioè promuovevo moltissimo la cultura italiana in Pakistan e anche le imprese italiane che volevano lavorare in questo paese è un lavoro duro perché comunque sei sempre in giro organizzare organizzato concerti organizzato mostre quando vi dicevo non siamo artisti però abbiamo sempre a che fare con la cultura abbiamo firmato degli accordi con le università pakistane per insegnare l'italiano come terza quarta lingua all'università abbiamo organizzato una mostra sullo spazio sulle ragazze e le donne nello spazio è stata una cosa bellissima perché c'erano tantissime pakistane che guardavano queste foto dicevano ma io non so un giorno potrei lavorare in un'agenzia spaziale e noi diciamo sì certo che potete farlo e quindi abbiamo dato delle indicazioni dei consigli è stato con l'appoggio ovviamente delle università pakistane devo dire sono stati tutti eccezionali abbiamo organizzato tantissimi incontri abbiamo organizzato una serata di danza con una ballerina pakistana e una ballerina italiana che hanno fatto loro hanno creato una loro serata di danza con cose che prendevano dagli elementi italiani elementi pakistani abbiamo dato vita a un disco un cd di canzoni grazie a un gruppo di artisti siciliani che è venuto in pakistan ha collaborato col conservatorio di caracci e hanno dato vita a un cd di canzoni fusion quindi è stato bellissimo veramente devo dire ho lavorato tantissimo ma è stato un modo per portare l'italia in pakistan e non farla dimenticare e poi c'erano le imprese tantissime imprese italiane che vogliono vendere i loro prodotti in particolare nel settore tessile perché sapete in pakistan ci sono molti lavoratori nel tessile e noi ovviamente siamo appesi della moda quindi siamo interessati a queste collaborazioni soprattutto a vendere macchine e i pakistan mi dicevano siamo molto contenti di lavorare con l'italia perché i vostri imprenditori sono molto flessibili quando ad esempio andiamo a comprare macchine da altri paesi europei non faccio nomi il prodotto ci dicono il prodotto è questo il prodotto va bene se ti piace bene se non ti piace non importa vai da qualcun altro invece quando parliamo con un italiano gli diciamo ma senti ma sta macchina la puoi modificare un po' così perché magari io ho bisogno che il robottino faccia un'altra cosa e l'italiano ti dice adesso ne parliamo e molti di loro praticamente personalizzavano la macchina per i clienti pakistano questa cosa ha creato non avete idea ma un legame di fiducia e di collaborazione che tra l'altro ha retto anche gli anni peggiori del terrorismo a Karachi Karachi ha avuto un periodo molto difficile in cui gli estremisti mettevano bombe un po' ovunque e questa collaborazione capite bene che quando un paese non è sicuro quando una città non è sicura difficilmente l'imprenditore straniero torna per venderti la macchina per parlare di collaborazioni e invece gli italiani raramente hanno abbandonato Karachi anche negli anni più duri magari a distanza magari in altro modo si incontravano a Dubai piuttosto che a Karachi che insomma è molto vicina e comunque mantenevano un rapporto di fiducia col cliente quando poi la situazione di sicurezza è migliorata i pakistani non hanno dimenticato questa cosa e hanno continuato a comprare italiano e hanno cercato di comprare italiano perché hanno visto questo legame proprio di fedeltà che si era creato questo ci ha molto aiutato devo dire ed è stato bello anche per me vedere come potevo creare dei legami tra imprenditori che ancora non si conoscevano e portare avanti un prodotto magari quindi è stato anche lì voi dite ma tu hai studiato scienze politiche perché ti occupi di macchine testili beh certo perché comunque il mio obiettivo qua è mettere insieme i due paesi anche nel campo commerciale dove è possibile e poi ero la consola e quindi ovviamente mi dovevo occupare di una struttura avevo un consolato sotto dovevo gestire il personale dovevo gestire i soldi che entravano dovevo controllare i servizi consolari ed ero da sola a fare questo quindi comunque è stata una bella sfida per me per fortuna poi insomma è andato tutto bene per quanto ne so e ho lasciato il Pakistan dopo tre anni e da Karachi sono andata in Camerun a Yaoundé quindi ho fatto tre sedi normalmente se ne fanno due ma io ho voluto fare ancora un'altra esperienza perché mi era molto piaciuto il Pakistan e volevo vedere un continente nuovo e sono atterrata in Africa e lì ero vice ambasciatrice quindi ero la numero due di un'ambasciata è stato molto bello tornare a lavorare con un collega con un ambasciatore perché a Karachi ero l'unica diplomatica quindi è stato bello potermi confrontare con qualcuno e lì mi occupavo insomma un po' di tutto perché avevo sempre la gestione della sede ma ho imparato a fare i rapporti politici ho imparato a riferire a Roma sulla situazione politica dei paesi in cui che coprivamo la cosa bella dell'Africa è stata sicuramente la parte di cooperazione quindi la cooperazione italiana è gestita da un'agenzia che si chiama AICS però collabora con l'ambasciata in raccordo con l'ambasciata e lì ci siamo occupati di alcuni progetti ci siamo occupati di aiutare le popolazioni in difficoltà che scappavano dalla guerra che c'era nell'Ovest ci siamo occupati abbiamo collaborato con l'UNESCO per dare dei kit di studio a questi ragazzi anche più giovani di voi che non potevano più andare a scuola perché nella loro regione era successo insomma qualcosa di molto brutto e quindi le violenze impedivano alle scuole di continuare a lavorare e quando lavori nella cooperazione ti rendi conto anche lì che stai dando un contributo perché a queste persone che tu non conosci stai cambiando la vita cioè gli stai dando degli strumenti per continuare appunto a lavorare a studiare a vivere a mangiare e fai la differenza per qualcuno quindi anche questo devo dire è stato un aspetto del mio lavoro che non avevo mai toccato e che è stato veramente molto interessante c'è un altro aspetto ancora del nostro lavoro che io non ho fatto personalmente ma che è importante dirvi che è il multilaterale cioè quello che vi dicevo quando sono andata a Ginevra ho visto l'ONU cos'è l'ONU cos'è l'Unione Europea ovviamente sono dei luoghi in cui ci si incontra ci si trova e si lavora insieme con degli obiettivi comuni l'ONU ne ha tantissimi combattere la fame nel mondo l'UNESCO protegge il patrimonio culturale dell'umanità collaborare in campo scientifico l'Unione Europea sapete bene insomma siamo qua in uno spazio Europa da cosa è nata e che cosa è diventata quindi insomma i diplomatici si occupano anche di alta politica si occupano anche di mettere insieme le loro capacità per non so migliorare un determinato settore e quindi c'è anche tutto questo aspetto che io personalmente non ho toccato ma che molti colleghi hanno fatto quindi più o meno vi ho spiegato che cosa può fare un diplomatico e per tornare al momento di oggi qualcuno anche mi ha chiesto ma durante una guerra come quella che abbiamo adesso in Ucraina la diplomazia a spazio di manovra osserva qualcosa allora in realtà sì in realtà i canali diplomatici anche durante una guerra raramente si chiudono al 100% forse vi ricorderete dell'accordo sul grano che è stato concluso grazie all'intervento dell'ONU anche in un momento difficile come quello in Ucraina le due parti comunque soprattutto se c'è una terza parte neutrale che li fa parlare hanno cercato hanno trovato un accordo per far passare il grano e quindi da una parte c'era la Russia che bloccava i porti con le navi da guerra dall'altra c'era l'Ucraina che non voleva sminare le parti davanti ai loro porti perché temeva che l'avversario si intrufolasse per prendere Odessa e le altre città ma grazie a un accordo diplomatico dell'ONU hanno detto ok diamo garanzie di sicurezza a tutti e quindi siamo riusciti a sbloccare queste navi un'altra parte è lo scambio di prigionieri sapete che in guerra vengono fatti di prigionieri da tutte e due le parti allora molto spesso questi prigionieri vengono scambiati perché interesse di tutti fa di tornare le proprie famiglie ecco anche lì ci sono dei canali diplomatici quindi in realtà la diplomazia non muore mai questo vi voglio dire certo di fronte a una guerra è molto difficile parlare questo linguaggio ma non va mai abbandonato sapete bene che la guerra in Europa è qualcosa che noi non pensavamo di dover più vedere Von Clausewitz un generale teorico militare prussiano diceva che la prosecuzione della politica con altri mezzi lo era tanti secoli fa pensavamo così poi nel 1945 abbiamo creato l'ONU e abbiamo detto basta basta così è stata creata anche l'Unione Europea francesi e tedeschi dopo tre guerre sanguinosissime non ci sono state solo le due guerre mondiali ma anche la guerra franco-prussiana del 1870 si sono tesi la mano e hanno detto ok basta basta non facciamo più guerre non su questo suolo mettiamo in comune le risorse economiche del carbone e dell'acciaio e andiamo avanti costruiamo sulle macerie e noi abbiamo vissuto 70 anni così abbiamo vissuto in pace abbiamo vissuto in un giardino di benessere di speranza di sicurezza e adesso è successo quello che è successo quindi quello che vi voglio dire è non diamo mai per scontato il posto in cui stiamo vivendo l'epoca in cui stiamo vivendo perché in realtà è un'eccezione della storia quello che abbiamo fatto è un qualcosa di unico è molto prezioso quello che hanno fatto in realtà i nostri antenati la sicurezza nella quale stiamo vivendo la possibilità di accedere alle comunicazioni così facilmente da un cellulare l'accesso al cibo l'accesso ai farmaci è un qualcosa che tra l'altro non tutto il mondo oggi ha e quando vai fuori te ne rendi conto ma è un qualcosa che va difeso che va protetto perché non è detto che durerà per sempre è questo che voglio dire ecco perché la diplomazia oggi ha un ruolo ancora più importante perché di fronte a delle sfide come quelle che ci stanno arrivando da est bisogna fare qualcosa bisogna alzarsi in piedi e dire no cioè io voglio un altro tipo di vita per me per i miei figli quindi ognuno con il lavoro che sceglierà di fare però ricordiamoci che siamo tutti uniti dai valori europei qua in Europa siamo uniti dai diritti umani dalla difesa della libertà dalla difesa della democrazia e qualunque cosa sceglierete di fare ricordatevi che non è scontato ok e che quindi tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte io ho scelto di farla con questo lavoro qua voi non so cosa sceglierete di fare ma qualunque cosa scegliate di fare fatela pensando che state difendendo qualche cosa di unico e di bello cioè noi viviamo in un giardino nel mondo e non ce ne rendiamo a volte neanche conto vi invito anche a viaggiare vi invito a uscire dall'Italia ma a uscire proprio dall'Europa e vedere cosa c'è fuori perché non diamo mai nulla per scontato mai nulla per scontato ok io vi ringrazio per l'attenzione grazie come no certo anche per noi grazie grazie